fotografie perfette in controluce scopriamo come scattarle in questo video ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi voglio svelarvi tutti i miei segreti sulla fotografia in controluce parametri di scatto obiettivi macchina fotografica come ho settato le luci che modifico fatto in post produzione vi dirò tutto questo in modo che alla fine del video sarete in grado di ottenere la vostra fotografia in controluce perfetta prima di andare avanti se video come questi vi interessano lasciatemi like iscrivetevi al canale così potrò portarvene altri la fotografia in controluce mi appassiona veramente molto perché può regalarci degli scatti stupendi a patto che noi sappiamo come gestire la nostra attrezzatura e che sappiamo anche come muoverci in post produzione a primo impatto scattare controluce può sembrare complicato ma andremo a vedere insieme tutti i vari casi che ci si possono presentare andremo a vedere come affrontarli al meglio per ottenere le fotografie che abbiamo in testa prima di mostrarvi alcune fotografie che ho scattato in controluce e di svelarvi i segreti alla base voglio un attimo classificare le condizioni di luce che ci possono capitare se scattiamo solo ed esclusivamente con luce naturale quello che succede che il nostro soggetto avrà una forte luce alle spalle e in base all'intensità di questa luce a come vogliamo esporre la foto potremmo creare una foto diciamo normale tra virgolette oppure una silhouette in cui il nostro soggetto è scuro scuro e esponiamo per lo sfondo nel caso invece decidiamo di utilizzare una luce flash per controbilanciare la luce alle spalle del nostro soggetto può capitare che abbiamo un flash attaccato alla nostra camera oppure staccato dalla nostra camera personalmente quando utilizzo il flash staccato dalla camera lo abbino sempre ad un ombrello bianco traslucido per ammorbidire la luce che andrà a colpire il soggetto a prescindere dal fatto che utilizzerò un flash o meno quando vado a scattare in controluce faccio particolare attenzione all'istogramma per evitare di andare a bruciare le alte luci e a tal proposito vi consiglio se ve lo avete perso di recuperare il video che ho dedicato appunto all'istogramma se nonostante ciò dovessi comunque ottenere consapevolmente delle luci bruciate andrò a gestire la cosa magari in post produzione nel caso ad esempio di un cielo che ha una piccola parte bruciata magari vado ad aggiungere del colore in photoshop per rendere comunque l'immagine più gradevole fatte queste premesse iniziali andiamo a vedere alcune foto che ho scattato in controluce i vari parametri come ho gestito le luci la post produzione e andiamo a svelare tutti questi segreti ora finalmente andiamo a vedere alcune foto che ho scattato in controluce sia con luce artificiale che con luce naturale direi di partire intanto con la luce naturale partiamo con questa foto che ho scattato a lucca comics con la canon rp e 50 mm 1.8 rf trovate tra l'altro le recensioni sia della macchina che dell'obiettivo sul canale ho scattato questa foto con luce naturale ISO 150 mm f28 1.60 di secondo e ho fatto particolare attenzione all'istogramma cercando di non schiacciarlo troppo a destra e quindi di mantenere un po di dettagli sul cielo quando ci troviamo in situazioni del genere di forte controluce forte contrasto è molto importante si guardare l'istogramma in fase di scatto per non perdere troppi dettagli ma poi quando andiamo ad editare la foto in post produzione è molto importante andare a trattare separatamente l'esposizione dei nostri soggetti da quella dello sfondo per trattare separatamente l'esposizione dei nostri soggetti da quella dello sfondo possiamo utilizzare le maschere di lightroom ad esempio troviamo la maschera per i nostri soggetti questa è la maschera che ci genera lightroom non è precisissima possiamo sia andarla a modificare utilizzando il pennello come sto facendo io magari andiamo a ridurre la dimensione del pennello cerchiamo di togliere le parti di maschera ad esempio qua se io vado a zoomare un pochettino potete notare che c'è una parte di maschera che non serve sto cercando di cancellarla con il pennello però se volete essere ancora più precisi potete fare questo lavoro in photoshop se vi interessa particolarmente come editare immagini di questo tipo magari ci posso dedicare un video sul canale nel frattempo però avete l'idea se adesso io vado a modificare ad esempio l'esposizione vedrete che l'esposizione aumenta o diminuisce solo sui nostri soggetti questa è una foto già editata quindi non andrò a modificare l'esposizione però così avete un'idea di come fare una volta creata questa maschera sui nostri soggetti lightroom cliccando con il tasto destro sulla maschera possiamo duplicare ed invertire la maschera questo ci permetterà di andare ad agire sul nostro sfondo quindi adesso diminuisco l'esposizione aumento l'esposizione e come vedete va ad agire sullo sfondo io faccio doppio clic sullo slider dell'esposizione per rimetterlo come stava prima questa è un'altra foto che ho scattato sempre a lucca con gli stessi parametri di scatto di prima quindi su 150 mm f28 160 di secondo questa è un'immagine in verticale anche qui ho trattato separatamente l'esposizione dei soggetti con quella dello sfondo quindi ho scontornato i soggetti in photoshop per fare queste modifiche selettive e questo è il risultato finale sempre con luce naturale ho scattato questa foto al mio amico yannick qua eravamo al porto di ancona ho utilizzato come parametri su 150 mm f2 160 di secondo eravamo tra il tramonto e l'ora blu e ho deciso di enfatizzare questi colori abbassando la temperatura colore poi ho voluto anche utilizzare una lieve vignettatura per andare a focalizzare l'attenzione sul soggetto mi piaceva l'idea di abbassare la temperatura colore anche per cercare di creare un mood malinconico e raccontare questo tipo di storia qua anche se in realtà quel pomeriggio abbiamo scattato ci siamo dedicati a quello che ci piace fare di più e ci siamo divertiti un'altra foto in controluce in questo caso eravamo in pieno tramonto qui ho deciso di realizzare una silhouette sempre al mio amico yannick in questo caso ho cercato di mettere il soggetto in modo che coprisse il sole e quindi ho cercato di evitare che il sole entrasse direttamente in camera questa foto è stata scattata invece a iso 100 53 mm f11 160 di secondo con il 24 70 28 tamron e la canon rp quando ho preso l'esposizione per lo sfondo sono andato a guardare l'istogramma in modo da non perdere dettagli sulle alte luci o in modo comunque da perderne il meno possibile questa foto non è stata assolutamente editata quindi come l'ho scattata è esattamente come la vedete magari la editerò tra qualche giorno e in questo caso appunto abbiamo perso tutto il dettaglio sul soggetto però abbiamo realizzato questa silhouette che a me onestamente è piaciuta molto questa è sempre una silhouette che ho scattato al mio amico yannick i parametri di scatto sono iso 100 54 mm f11 160 di secondo vado a disattivare l'indicatore delle luci bruciate come avete visto facendo entrare il sole in camera in questo caso abbiamo ottenuto delle luci bruciate però mi piaceva l'idea di fare entrare il sole in camera perché si è creato un piccolo raggio con del flare che mi piaceva abbastanza magari lo vediamo meglio in questo momento il flare è diciamo a dei pro e dei contro perché in base all'obiettivo che utilizzate può risultare più o meno gradevole nel caso del 24 70 posso dire che il flare è abbastanza gradevole quindi ho deciso di utilizzarlo però mi è capitato di scattare con alcuni obiettivi vintage se non sbaglio era il 55 mm f2.2 fujinon in quel caso il flare non mi piaceva affatto quindi quegli scatti secondo me così in controluce sono rovinati questa è una silhouette che ho scattato al mio amico roberto in questo caso la luce era già leggermente cambiata abbiamo perso dei dettagli sia sui neri ma anche sulle altre luci perché anche in questo caso ho fatto leggermente entrare il sole nell'inquadratura anche qui si è creato questo effetto particolare appunto con il flare che mi è piaciuto molto quindi ho deciso di tenerlo e di metterlo in inquadratura questa foto pure non è stata affatto evitata e i parametri sono i suoi 136 mm f8 un centosessantesimo di secondo prima di passare alle foto che ho scattato con il flash esterno voglio mostrarvi alcune foto che ho scattato con il flash incorporato della nikon d40 questa è una fotografia che ho scattato il mio amico roberto all'ago di fiastra è inutile dirvi che quando ho scattato questa foto ho sempre guardato l'istogramma per evitare di perdere dettagli possibilmente sulle alte luci e sui neri mi piaceva questo scorcio che dà un senso di profondità questa è comunque una foto in controluce perché arrivava della luce alle spalle del soggetto possiamo notare dal cappello che arrivava questa luce da dietro anche molto gradevole perché ci va a staccare il soggetto dalla sfondo e per controbilanciare diciamo questa situazione di controluce e dare della luce anche al soggetto ho deciso di utilizzare il flash incorporato della nikon d40 ho utilizzato come obiettivo il 1855 e la nikon d40 ci dà la possibilità di impostare manualmente la potenza del flash non vi sto parlando della compensazione del flash ma proprio impostare la potenza del flash io quando ricordo a che potenza avevo messo il flash comunque credo abbastanza alta purtroppo non riesco a vedere i parametri di questa foto comunque spesso e volentieri col 1855 scatto f56 mentre per quanto riguarda gli iso spesso e volentieri cerco di tenerli a 200 per la nikon d40 perché l'iso 200 è l'iso nativo di quella macchina se proprio non riesco poi vado un po ad alzarlo però cerco di tenere la macchina iso 200 con gli stessi parametri della foto precedente ho chiesto al mio amico roberto di scattarmi una foto e anche se abbiamo utilizzato il flash incorporato della nikon d40 comunque questa immagine ha un po di profondità sia per lo sfondo sfocato sia per queste linee che ci guidano un po lo sguardo sia perché comunque c'è una luce alle mie spalle che crea questa separazione e mi stacca dallo sfondo e poi comunque anche utilizzando il flash frontale vediamo che c'è comunque dell'ombra sul mio volto e quindi c'è della profondità vi faccio notare che con questa camicia si è creato un po di effetto moire che comunque ho deciso di lasciare perché ho provato a toglierlo in post produzione ma onestamente l'effetto che sta ottenendo non mi piaceva alla fine ho deciso di tenere la foto esattamente in questo modo questa è un'altra foto che ho scattato il mio amico roberto sempre in controluce ho utilizzato il flash incorporato della nikon d40 se andiamo a zoomare vediamo che c'è questa luce di separazione che crea comunque profondità e stacca il soggetto dallo sfondo vediamo tutte le sfumature del sole che riflette sul lago di fiastra però manteniamo anche delle informazioni sul nostro soggetto appunto illuminato grazie al flash incorporato della macchina fotografica questa è una foto che ho scattato sempre in controluce con il flash alla mia canone 450d con montato il 1855 e l'intervallometro falsi vi consiglio di andare a recuperare il video sull'intervallometro falsi e anche il video sul timelapse realizzato in lightroom che sono riuscito appunto a realizzare grazie alle diverse foto che ho scattato con la canon 450d e l'intervallometro falsi questa è un'altra foto che ho scattato sempre con la nikon d40 e il 1855 utilizzando il flash incorporato vediamo che si intravede comunque lo sfondo il soggetto è ben esposto quindi anche il flash incorporato e la macchina fotografica non sottovalutatelo in situazioni di controluce può essere utile ovviamente se vi va vi invito a recuperare il video sulla nikon d40 e il video sulla canon 450d ora finalmente andiamo a vedere l'ultima situazione di luce ovvero quella in cui utilizzo il flash staccato dalla macchina direi di lasciare questa foto per ultimo perché è quella su cui devo dire di più intanto partiamo da questa foto che ho scattato a questo mio amico a senigallia possiamo vedere che il soggetto è in ombra o comunque parzialmente in ombra e poi c'è lo sfondo del mare in questo caso cosa ho fatto ho settato l'esposizione sullo sfondo come ho fatto anche per le altre foto che ho scattato sia con luce naturale e anche con il flash incorporato della macchina fotografica poi cosa ho fatto una volta che il mio sfondo era ben illuminato c'erano tutti i dettagli che volevo avere ho iniziato a giocare con la potenza del flash questo lavoro l'ho fatto anche con la nikon d40 che con il flash incorporato mi permette di impostare manualmente la potenza del flash se scattate magari con una macchina fotografica con il flash incorporato che vi permette di fare la compensazione dell'esposizione ma non settare manualmente il flash in quel caso se il flash spara troppa luce con la compensazione dell'esposizione dovete andare a abbassare la potenza del flash se spara poca luce dovete andare ad aumentarla se avete il controllo manuale però è la cosa migliore avete più controllo in assoluto in questo caso ho utilizzato un flash staccato dalla macchina la cui luce era diffusa da un ombrello traslucido la luce colpiva dall'alto a un angolo di circa 45 gradi il soggetto ed era spostato diciamo da questa linea orizzontale di circa 45 gradi quindi era un angolo di 45 gradi sia orizzontalmente che particolarmente spero di essermi più o meno spiegato per il resto non ho fatto molto questa foto perché l'esposizione mi era già piaciuta da subito vi dico i parametri scatto che sono iso 150 mm f6.3 un centosessantesimo di secondo quando utilizzo il flash io non salgo mai sopra un centosessantesimo di secondo ovvero non utilizzo mai tempi di scatto più brevi di un centosessantesimo di secondo perché il tempo di sincronizzazione della canon rp è di un centottantesimo di secondo alcune macchine possono arrivare fino a un duecentocinquantesimo di secondo però non era questo il caso quindi sono stato benissimo a un centosessantesimo di secondo per scattare questa foto ho utilizzato la canon rp e il 50 mm 1.8 rf questa è una foto che ho scattato a gennaio al festival del fumetto di novegro eravamo al tramonto ho utilizzato la luce del flash sempre settata come nella foto precedente ho utilizzato sempre l'ombrello traslucido i 45 gradi e sono andato appunto a controbilanciare la luce dello sfondo e quindi sono andato ad illuminare correttamente il soggetto prima imposto sempre l'esposizione per lo sfondo e poi imposto la potenza del flash in questo caso ho dovuto lavorare di più in post produzione sono andato a scontornare il soggetto ho gestito separatamente l'esposizione dello sfondo e quella del soggetto quindi ho dedicato più tempo alla post produzione ma i concetti di base sono sempre quelli la foto è stata scattata iso 100 38 mm f56 in centosessantesimo di secondo ho utilizzato la canon rp e il 24 70 28 tamron questa foto è stata scattata con gli stessi parametri di prima eccetto il fatto che lo zoom era a 33 mm si può leggermente intravedere che diciamo il vestito della ragazza era leggermente svolazzante per ottenere il vestito svolazzante che voleva appunto la ragazza mi ha aiutato una sua amica che è stata appunto un assistente d'eccezione bravissima e quindi sono riuscito ad ottenere questa foto che mi è piaciuta particolarmente quest'altra foto ha gli stessi identici parametri della foto precedente eppure mi piace abbastanza questa era un'amica della ragazza di prima questa foto mi è piaciuta molto sono andato sempre a scontornare il soggetto in photoshop per gestire separatamente l'esposizione dello sfondo e del soggetto ho utilizzato la stessa luce di prima ci tenevo però tantissimo in questo caso ad enfatizzare gli occhi stupendi della ragazza e credo di esserci riuscito poi in questo caso ma anche nel caso delle altre fotografie di novegro sono andato a giocare parecchio con la temperatura colore sia dello sfondo soprattutto dello sfondo ma anche del soggetto e niente ho fatto alcune altre regolazioni principalmente quello fatto è stato andare ad eliminare eventuali persone che stanno sullo sfondo perché poi distraggono invece io volevo l'attenzione al cento per cento sui miei soggetti parametri scatti questa foto sono i suoi 144 mm f5 in cento sessantesimo in secondo utilizzato sempre canon rp e tamron 24 70 8 sempre con la stessa attrezzatura ho realizzato anche le foto di questa ragazza che era amica delle altre due ragazze che abbiamo visto in precedenza questa foto è stata scattata iso 155 mm f3 2 un cento sessantesimo in secondo non ricordo qual era la potenza del flash che ho utilizzato per realizzare queste foto io spesso quando utilizzo il flash canon 550 x come in questo caso imposto il flash a un ottavo di potenza ma poi dipende comunque dalla situazione di luce quindi quello che vi dico è giocate con il flash aumentato abbassate la potenza fino a che non ottenete la luce che vi soddisfa questa foto è un pochino più luminosa ogni foto magari mi ispirava una luce leggermente diversa anche qui sono andato a scontornare il soggetto per agire separatamente sulla luce del soggetto e dello sfondo anche in questo caso sono andato ad eliminare eventuali persone sullo sfondo che andavano a distrarre dal nostro soggetto e anche qui sicuramente ho giocato un pochino con la temperatura colore sempre un po a sensazione come potete vedere all'istogramma cerco sempre di stare molto attento a non perdere dettagli soprattutto sulle altre luci ma anche sulle ombre un'altra foto che mi è piaciuta molto sempre scattata la ragazza di prima a novegro ha ISO 140 mm f3.2 in centosessantesimo di secondo sempre stessa situazione di luce e queste foto veramente a livello di luce soprattutto lo apprezzate tantissimo in questo caso ho utilizzato sempre ISO 149 mm f3.2 in centosessantesimo di secondo questa è una posta che aveva deciso la ragazza onestamente mi sembra una posa molto simpatica devo dire che sulle pose quando fotografo i cosplayer mi affido spesso a loro nel senso che se ho dei cosplayer che si sentono particolarmente al loro agio davanti alla fotocamera li lascio liberi di fare le loro pose nel caso trovo dei soggetti sia cosplayer o meno che non si sentono particolarmente al loro agio allora propongo io delle pose un'altra foto che mi piace moltissimo qua si vede particolarmente il rosso del cielo al tramonto quindi questa foto mi piace pure molto scattata ISO 145 mm f3.2 in centosessantesimo di secondo questa è l'ultima foto di novegro però ve l'ho voluta mostrare perché mi piacevano particolarmente sempre stesse considerazioni di prima eliminare soggetti che disturbano nello sfondo scontornare il soggetto per gestire separatamente esposizione dello sfondo e del soggetto giocare con la temperatura a colore queste cose qua i parametri di scatto sono ISO 129 mm f3.2 in centosessantesimo di secondo e quindi anche questa foto mi ha dato veramente molto molto soddisfazione arriviamo finalmente alla foto finale che è anche quella che trovate nella copertina di questo video questa è una foto che ho scattato al mio amico luca al porto di ancona e ho utilizzato sempre un flash esterno con luce diffusa da un ombrello bianco traslucido qua come potete vedere dall'istogramma sono stato molto attento a non bruciare le alte luci anche se qualcosina probabilmente qualche dettaglio è stato perso poi vedremo anche come ho gestito questa cosa in post produzione e quindi questa è la foto che ho ottenuto e probabilmente a livello di luce a livello di colori è una di quelle che mi piace di più in assoluto tra tutte le fotografie che ho scattato tant'è che ringrazio nuovamente il mio amico luca per avermi permesso di scattare questa foto qui valgono sempre le solite regole esponiamo per lo sfondo guardiamo l'istogramma impostiamo di conseguenza la potenza del flash fino a che non otteniamo una luce del soggetto che ci soddisfa a quel punto scattiamo la nostra foto con la composizione che ci piace tra l'altro quel giorno il cielo era particolarmente bello sono stato anche molto fortunato quel punto di vista e poi andiamo a sistemare diciamo le altre cose che non siamo riusciti a fare in fase di scatto in post produzione anche in questo caso ho scontornato il soggetto in questo caso ho scontornato direttamente questa diciamo panchina di cemento passate nel termine e luca stesso e ho regolato l'esposizione di questo blocco diciamo luca panchina e ho gestito l'esposizione dello sfondo separatamente da quel che ricordo sono andato anche ad aggiungere dei colori sul cielo premetto che i colori al cielo erano stupendi quello che ho fatto è stato campionare due o tre volte sul cielo ed andare a pennellare del colore all'interno dell'immagine supponiamo che ad esempio vado a campionare su questa nuvola blu scuro vado a pennellare un po di colore campiono su questo arancione vado a pennellare un po di colore campiono su questo rosa vado a pennellare un po di colore ho arricchito un pochino i colori dell'immagine ma di base erano già fantastici questa era la mia carrellata di fotografie in controluce alcune le fotografie in controluce che ho scattato che preferisco vi ho detto parametri luce tecniche segreti ovviamente se avete qualsiasi altra domanda curiosità scrivetemelo nei commenti se volete qualche video particolare di post produzione o di fotografia sul campo fatemelo sempre sapere nei commenti e per il resto spero che questo video vi sia stato utile e fatemelo sapere ovviamente sempre con un like con un commento o con un'iscrizione ok ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio della vostra compagnia vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti lasciatemi un like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video ciao